Buonasera a tutti! Io vi ringrazio di essere venuti qua così numerosi perché non dobbiamo mai dare niente per scontato e che voi oggi forse tutti qui non era scontato e questo è un regalo meraviglioso e io sono emozionatissimo e anche io voglio dire che sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo parlamentare dove ognuno ha lavorato per cercare di migliorare il Paese insieme a voi, nessuno escluso! Io sono contento perché oggi sta avvenendo una rivoluzione, però una rivoluzione molto diversa da tutte le altre che noi abbiamo conosciuto perché questa è una rivoluzione che non porterà a vincere e non è una rivoluzione che porterà a perdere un popolo, finalmente ci sarà un popolo che vincerà a cambiarlo, questa è una rivoluzione che porterà al cambiamento di un popolo perché non c'è niente di più bello, di un popolo che si ferma a riflettere su se stesso tutto ebbene quello che non è andato e vi prende in mano, in modo libero, il proprio destino e se lo costruisce! questo è una rivoluzione di cambiamento! ragazzi io vi voglio dire una cosa da questo palco, sono state gridate e raccontate da Beppe Grillo nel 2013 quelle famose parole, le parole guerriere e questo gruppo parlamentare per rispettare quelle parole che tutti insieme ci siamo detti qui a San Giovanni ha fatto seguire azioni guerriere! azioni guerriere! azioni per salvare la Costituzione sopra il tetto, per salvare l'articolo 138, azioni per non far spendere la banca d'Italia con i 7 miliardi e mezzo di euro, azioni di questo tipo, abbiamo rispettato quelle parole, quelle promesse che ci siamo fatti e oggi...